Sì, c'è sette! Siamo al mio amico Alessandro! Alessandro dove sei? Sì, io sono davanti al timer! Dieci! Nove! Otto! Sette! Sei! Cinque! Quattro! Tre! Due! Uno! Galactus! Is the best Galactus! Oh, però... Uh, 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 uh! Yeah! Uh, uh! Va, io ballo! Ciao, Galactus! No, però ho visto, tipo, una live da dei YouTuber e, tipo, ancora manca un minuto, quindi ancora non ci faranno andare! Fra, dove sei? Ah, ti ho visto, ti ho visto, ti ho visto! Sei all'inizio! Fra, dove stai? Dove vai? Dove vai? Mamma mia, sono super in hype! Allora, io sono, te lo dico subito! Ah, ma tu qui sei? Vero? Sì! Ciao! Ehi! Ah! 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 Porca! Oddio il cuore! 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 Oddio il cuore, fra! Oddio il cuore! Oddio! Oddio! Oh, raga, io... I conte... I conte... Ma sti cazzi che spariamo! Non c'abbiamo neanche le armi! Fra, di bus! Ma quanto è grande, fra! Quanto è grande! Eh... Eh, ti ho visto, saprò di me! Quanto è... Raga, quanto è grande! Quanto è grande! E por... E ha detto che hanno detto che due volte Travis Scott! Ma secondo me è quattro volte Travis Scott! Non l'avete capito bene? Porca pupata! Guardatelo! Raga... Oh, serio... Ma quanto è figo! Quanto è figo! Ma che due volte Travis Scott! Ma che, raga, due volte Travis Scott! Questo è un... Ma porca miseria! Vai, laser! Vai, distruggi! Distruggi tutto, Galactus! Voglio accorso! Voglio, ragazzi, non buffito! Voglio sempre... Ora distrugge! Distruggi! Sì, ma che... Ora arrivano i supereroi! Guarda! Attenzione! Attenzione! Sì, sì! Guarda! Galactus ha fame! E mangia questo mondo di merda! Mangialo! Mangialo! No, 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 Thor! No, Thor! No, Thor! No, mi sa che c'è... Ora c'è Thor che lo sta... No! Meno male che... Oh, dai che scappiamo da questo mondo! Mangiatelo! Oh, la vado! La vado! Oh, a me! A me! Guarda! Oh, io è direttato a me! Guarda! Mi prende! Mi prende! No, Fra! No, Fra! Che stiamo facendo? Perché guardo in alto? Oh, ciao, Iron Man! Ciao! Grazie! È vero! L'evento è il jetpack! Eh, no! Io comunque non ti aiuto, Fra! Inutile! Ora mi prende! Mi sta prendendo! Fra! Fra! Mi sta prendendo! Fra! Mi sta... Ah, ma non sta prendendo me! Vai! Vai! Distruggi le rovine! Distruggi tutto, Fra! Eh, non ho detto che ora era un superavento! Fra, ma dove sei? Io sono tosto la nano di Galactus! Vai! 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 Ho entrato in azione! Rilevo valori energetici fuori scala! Porca miseria! Raga, ma che figata è! Che figata è! E fra io! Vai! Vai! Oh! E' uguale al Nexus! Ti ricordi? Secondo i miei calcoli, se Galactus continua ad assorbire il punto zero a questo ritmo... Oh! 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 Oh, regà! Uguale al... Alla, se sono dieci! Uguale! Uguale! Non importa il punto è che dobbiamo muoverci! No, no! No, io non mi muovo! Stai guidare un punto è che dobbiamo guidare il bus della battaglia! Il bus della... Il bus della... Ah, è vero! Queste sono le cellule gamma, mi sembra! Ehi, no! Come era? No! Guarda quanti... Guarda quanti ce ne sono! Com... Eh, ma pure io! Eh, se vuoi... Ce ne sono migliaia! No, milioni! Le libertà di armeggiare un po' con la tua realtà! Lo so, c'è la cosa! Ti ringrazierai dopo! Sì, ciao, Airman! Ho modificato l'affare dei loop temporali, creato miliardi di bus della battaglia e li ho trasformati in bombe! Dobbiamo far mangiare a Galactus più bus possibili prima che divori il punto zero! No, no! Ti prego! Si aprirà un portale per riportarlo da dove è venuto! No! Guarda, droni offensivi! Carino! Speravo di poter provare i cannoni laser del bus della battaglia! No, io non voglio! Io non voglio! Wow! Quando mi passi, Fra! 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 No, non sparate! Fra, non sparate! Vi prego! Casi dimenticavo! I laser non saranno d'aiuto contro il ragazzone, ma contro i droni sì! Ma perché io non sto vedendo niente? No sp... No sparate! No sparate! No sparate! No, no sparate! Io non sparo, io non sparo, sti gatti! Oh, hai un talento naturale! Punta al bersaglio e non esplodere! Non me ne frega! Ma... Eh, vabbè! Merda! Di merda, Fra! Guarda, di merda! Ma proprio di merda che vera... Simile a... Ahia, porfa! Ahia! Sì, vabbè, ma come non ce la faremo mai, Fra! Cioè, ho visto tutti quelli... Tutti quelli che io ho provato in questa season... No, non mi colpisce! Non mi ha colpito di poco! Ammiro il tuo entusiasmo! Ma ricorda, stai guidando una bomba, perciò fa' attenzione! Ok! Stai distruggendo parecchi? Sì, però non dovevamo sparare! No, no! Dai! Oh, stai risucchiando! Stai risucchiando, Fra! Stai risucchiando! Vai! Io ho il Galacto, tu! Wow, è bellissimo! È terribile, sì! Vai, Tony! Io sono al punto zero! Ora! No, non al punto zero, Fra! Vai! Ok, divertente! Non agitarti, ma ti ha notato! Ehi, biondo! Senti, ho qui un bus che scotta! Non te ne... Tor! Vengirò il vostro bizzarro carro da guerra! Oh, è sto Tor! Guarda, come mangi! Audita, ti portiamo sul suo braccio! Continua a volare verso nord e non andare nel panico! Ok? Vai! Bella, zì! Sono entrato... Sono entrato in una base, Fra! Sono entrato! Buone notizie! Ho sistemato la radio! Spariamo! Sì! Uè, tu! Ha ha! Uè! Tutoro, vado, vado! Mille droni! Mille droni, bitch! No, ma pure io! Cioè, sto distruggendo tutti! Vai, Galax! Oh, oh, bitch! Grande! Oh, forse mi ha... Mi ha subito solo per... Sì, ma non ce la faremo mai! Cioè, mi sembra... Sì, mi sembra... Sì, mi sembra... È so quello che è il PS5! Sì, dici, mi che... Boh, ho 15 pure! Ho 15! Quanti uccisioni! Vabbè, non ce la faremo mai, comunque! Vabbè, non ce la faremo... Io se sto ammando a caso! Wow, sto rilevando molti robot! Eh, guardate! Ehi, cosettoni! Potrei chiedarci una mano? Io sono una school! Vai! Wolverine! Vai, il mio personaggio preferito! Porca! Dai, Wolverine! Wolverine, ti prego! Non è questo il momento di distruggere! Guarda, Marte! Guarda... No, sì, che Marte! Saturno! Dai! Vai su Saturno, che è il mio pianeta preferito! Dai! E ora? Vai, vai! Risucchiami! Risucchiami! No, Iron Man! Si, ha boccato! So, andiamocene! Se il piano funziona, non lo vedremo più! No! Se non funziona, almeno ci saremo divertiti, no? In ogni caso, bel lavoro! No, dai! Sì, ora sì! No, non mi fa muovere! No, raga! Che schifo! Vi giuro che se l'hai picco, ho fatto così, solo per non andare... Ma guardate! No, è sto Travis Scott! La cosa di Travis Scott, l'hai vista? Eh, l'hai vista? No, ciò è impossibile! No! Va, va, falla, va, sti cretini! No, 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 no! No, no, no! Va, falla, va! Ste cellule gamba! Ste cellule gamba! Oh, ho visto comunque Travis Scott! Vai vicino a Saturno, eh! L'hai vista? Grazie, autista! Oh, abbraccio Rift! Shhh, shh! Oh, ti ricordi l'evento che ci hanno fatto vedere? Shhh! Quello è tre, o no? Eh, vabbè, è finito l'evento! Oh, ma ti ricordi quando c'era quell'illuminazione di Jonesy? Quello lì dove era nell'ufficio? Connessione in corso, connessione in corso! Oh, hai capito? Ti ricordi? Sì, me la ricordo quella! Eh, è forse collegato! Perché l'Epic comunque, tipo, già nella season 5, capitolo 1, Giuseppe, della season 5 e capitolo 2. Quindi è molto probabile. Ti prego, non mi dire che è come il buco nero! Ti prego! Ti prego, fra! No, due giorni! Dai! La prego! Dai! Dai, no, non posso fare come la season 10, che poi ho aspettato fino a tantissimo... Sì, sì, con i puntini che stanno caricando. Porca miseria! Vediamo gli altri youtuber che stanno facendo. Vediamo un pochino se è feffè. No, Nat, non è ancora il momento. Non è ancora il momento, Nat! Un minuto! Possiamo ottenere di più! Sette ore! Forse è stagione 5, allora esce! Alle sedi del mattino. Alle sedi del mattino? Alle sedi del mattino inizia Fortnite. È normale, comunque dicono che ha fatto tutti così. Ecco, continua. Sì, sì, stagione 5. E ti esce il countdown. Inizia tra. Eh, raga, questa è la vita. È la vita loga. Alle sedi del mattino. È il continuo dell'evento. Alle sedi di mattina. Sì. Io mi alzo, ma fregno. Svegliamo. Certo. Che domande sono? No, io non posso stare in hype così. Ma è bisogno veramente. No, ma veramente, non sto scherzando. Però mi sembra che ti esce. A loro gli usciva esci. A noi invece no. Allora, che ne sono adesso? Sono le ugule. Comunque non è durato proprio tanto. Le 20 e 24. Cioè, le 10 e 24. Beh, comunque ragazzi. Questo è il video. Magari, non so se lo continueremo insieme ad Ale. Lo continueremo insieme ad Alessandro. E ci vediamo al prossimo video. Aggiornate la campanellina. Iscrivetevi al canale. E mangiate più che potete. Perché siamo nel periodo natalizio. E quindi, ci vediamo. Al prossimo video. Ciao belli. Ciao.